Ecco una cosa, le vite ci sono sempre C'è un disforzino che viene presentato Il sabato piant'io c'è un bambino Abertura dalle 10 al 17 di venti Ci si informa Il sabato pomeriggio è stato Infatti, la storia di un'apertura di un impianto Il lieviamo, il lieviamo, il lieviamo Il lieviamo, il lieviamo Il lieviamo, il lieviamo Il lievitoے Qua e oltre? La storia La storia La storia La storia La storia La storia Grazie.